Ok, direi che possiamo allora iniziare con gli argomenti veri e propri del corso. Mi raccomando se vedete che non registro, avvisatemi, perché se no vi metto online la registrazione all'anno prima. Un anno ho dovuto riregistrare un'ora e mezza, ma soprattutto avevo il tempo di farlo. L'ho fatto con più o meno piacere, ma ho registrato la voce sulle slide che avevamo registrato. Per qualche motivo non funzionava il microfono. Comunque, adesso dovrebbe andare... Quindi, parliamo del primo argomento del corso, JavaScript. Ovviamente vedrete, andiamo avanti un po' spediti. Queste sono una sessantina di slide, che sono ottantine, però, diciamo, molti di questi argomenti sono facilmente approcciabili. Il fatto che ci siano i for, gli if, eccetera, in un linguaggio, non è che richiede più di tanto da capire, se non qual è la sintassi. Poi vedrete che la sintassi è quasi tipo C, quindi, insomma. Allora, JavaScript. Prima di tutto vogliamo impararlo come linguaggio, perché senza conoscerlo bene non andremo da nessuna parte. Perché dico bene? Bene non vuol dire saper scrivere gli if, i for, lì. Ci arrangiamo con un po' di Google Stack Overflow, eccetera, due if, due for, riusciamo sempre a scriverli. Capire bene come funzionano le strutture complicate. Array, oggetti, modalità sincrone, callback, e così via. Perché poi JavaScript nel browser, con questi framework, react, e così via, sarà pieno di queste cose. E queste cose bisognerà anche saperle spiegare all'esame. Soprattutto quando non funzionano. Quindi cercheremo di imparare soprattutto i cosiddetti programming patterns. Ogni linguaggio ha il suo modo di fare le cose. JavaScript è molto particolare in questo. Quindi noi cerchiamo di entrare nella mentalità JavaScript, nella filosofia JavaScript di come si programma. che non è come in C, for, i uguale a zero, i minore, eccetera, eccetera. Ci sono molti modi di fare un'interazione, molti modi di fare un for, e così via. Andiamo a vedere una specifica versione di JavaScript, che è una delle più diffuse. ES6, 2015. Sembra vecchia, ma in realtà ci sono anche delle cose un po' più nuove, che sono state integrate con un meccanismo che diciamo, però sostanzialmente l'ha più usata. E la useremo, come dicevo, sia lato service, sia client. Quindi tanto vale imparare bene il linguaggio. Riassunto di cosa andiamo a vedere. Quindi. Allora, JavaScript è uno dei linguaggi più diffusi. Forse il linguaggio più diffuso, perché oggigiorno tutti vogliono sviluppare applicazioni web. Tutti danno applicazioni web. Perché? Perché basta avere il browser, aprite, non c'è niente da installare, non c'è niente da caricare sul computer, eccetera. Se è possibile, è la cosa più semplice. Si aggiorna da sola, ricaricate la pagina, si aggiornate l'applicazione. Pensate rispetto ad installare un'applicazione vera e propria compilata su un computer. In certi posti non si può neanche fare. È bloccato, ci va l'amministratore del sistema, e così via. Quindi, JavaScript è il linguaggio più diffuso. È un linguaggio di programmazione vero e proprio. Ci scriviamo dei programmi. Ed è anche l'unico che è supportato dal browser, come dicevo stamattina. Ed è in grado di girare anche, non vorrei dire nativamente, ma diciamo facilmente su un computer senza browser, tramite un interprete. Ce ne sono alcuni nod del più diffuso. Questo nod.js. Che si chiama .js solo perché è carino chiamarli .js, le cose che hanno a fare con JavaScript, ma è solo il nome, non è un file .js e così via. Mi raccomando, non ha niente a che fare con Java. È stato chiamato così solo per una questione di marketing, perché quando è stata sviluppata la prima versione di JavaScript, andava tanto di moda Java, e allora hanno detto, chiamiamolo JavaScript che suona bene, ma non ha nulla a che fare con JavaScript. E giusto per darvi un'idea, è una cosa nata in dieci giorni. Quindi non sarà stata pensata così bene. Infatti ci sono certi aspetti che ci portiamo dietro fino ad oggi, che non sono proprio il massimo dal punto di vista del linguaggio. Piano piano, diciamo, sono evoluti, si sono un po' modificati, si sono un po' migliorati, però certe cose purtroppo non sono state frutto di scelte tecniche ben ponderate. Quindi questa è la storia. Nasce nel 95, forse prima che nasceste voi, non prima che sia nato io, purtroppo. Da questo signore, Brandon Aik, ingegnere penso, che lavorava in Netscape, che non so se vi dice qualcosa, ma era una delle aziende che sviluppava uno dei browser più diffusi all'epoca. Oggi non esiste più il browser. Formalmente si chiama ECMAScript, adesso è diventato uno standard. All'inizio era di fatto un insieme di specifiche sviluppate da un'azienda. Potrebbero essere tanti che sono formati i file e così via. Però piano piano, vista l'importanza che ha avuto e quanto si è diffuso, l'hanno trasformato in uno standard in maniera che ci fosse un riferimento ufficiale e utilizzabile da tutti. Diciamo, ci sono state introdotte tante funzionalità nel corso del tempo. Noi sostanzialmente ci focalizziamo appunto su questo S6 2015. Fate un po' attenzione ai nomi, solo per orientarsi. Diciamo, S6 è quello su cui ci focalizziamo noi, ma si chiama anche S2015. Se mettete l'anno per intero ce n'è uno in meno. E diciamo che fondamentalmente ha tutte le funzionalità che ci servono, tranne qualcosa che andremo a pescare dalle versioni successive e come lo facciamo adesso poi vi spiegherò. Quindi questo vi dà un po' la storia solo, ma senza, non è il caso che andiamo a, come dire, a spaccarci la testa con tutti questi singoli aspetti, ma diciamo che tutto ciò che ci serve, che sono il Destructuring, Template Literal, Promise, Arrow Functions, Classi, Moduli, eccetera, ci sono nelle S6 ed è per questo che, oltre al fatto che lo usiamo noi nel corso, è anche la versione più diffusa in utilizzo di JavaScript. La supportata, ecco, quanto meno. Questa è tutta la storia. Sostanzialmente c'è un comitato adesso dietro JavaScript che sviluppa il linguaggio ed è supportato dai soliti noti, Mozilla, Google, Facebook, Apple, Microsoft, eccetera, eccetera. Gente che ha interesse nel web, ad avere applicazioni web funzionanti, efficienti e così via. Ok? Quindi c'è un Technical Committee, questo TC39, penso, non so se è dell'ISO, forse non è dell'ISO, vabbè, non fa niente, che è una serie di persone che ogni anno, o ogni sei mesi, non so, ogni quanto, si ritrovano e decidono come far evolvere il linguaggio. Tipicamente fanno una nuova release dello standard all'anno, aggiungendo, modificando, cambiando qualcosina ogni volta. Lo standard lo trovate in giro, nel senso che ci cliccate sopra, potete andarvelo a leggere, ma come tutti gli standard è illegibile. Nel senso, va bene come riferimento, un dubbio, cosa succede in quel caso particolare, eccetera, come gestisce, come lo standard dice che si deve gestire, vado a cercarlo sullo standard. Ma lo standard non serve per capirci qualcosa. Per capirci qualcosa, dobbiamo, diciamo, ragionare diversamente e usare un altro approccio. Lo standard è molto tecnico, ma non ci dà il senso di quello che è stato fatto, il motivo, e così via. JavaScript gira in tanti posti, vi ho già detto, in Node, che è, diciamo, quello che useremo per farlo girare sul PC separatamente dai browser, oppure, nei browser. Come fa a girare nei browser? Anche nei browser c'è un interprete. C'è un interprete JavaScript, in realtà di interpreti ne esistono alcuni, non tantissimi, infatti alcuni browser condividono lo stesso interprete. Per esempio, Chrome, Chromium e Edge adesso condividono lo stesso interprete che si chiama V8 di JavaScript. Questo è solo per conoscenza. A noi in realtà questa cosa non interessa, ma se qualcuno vi parla del V8 JavaScript e non sapete cos'è, non è una nuova versione, ma è l'interprete che ci sta dentro i browser. Ok? Mozilla ne è un altro, Microsoft ne aveva un altro, poi è passato con Edge a condividere quello V8, perché comunque mantenere un interprete JavaScript non è una cosa semplice, perché JavaScript ha tante, tante funzionalità, e mi viene da dire forse troppe che lo dico e qui lo nego, nel senso che quando aprite un browser e date la possibilità di eseguire JavaScript state caricando l'interprete e questo vi usa un sacco di memoria, per questo che i browser sono così pesanti nel far girare ogni pagina, eccetera, perché se c'è JavaScript di mezzo ci sono tante cose da caricare in questo interprete JavaScript. Ok? Ok, poi vabbè c'è quello di Apple in Safari, va bene, diciamo che ogni grande azienda se vuole ha la capacità possibilità, si fa il suo interprete, ma il JavaScript è standard, quindi nelle funzionalità che usiamo noi cambierà poco usare un browser o un altro. Ecco, non sempre si implementano tutte le funzionalità, purtroppo questa è una moda del web, nel senso che lo standard non è una legge, c'è qualcosa da seguire, ma se un'azienda non lo vuole seguire in certe cose non lo seguirà e non ci possiamo fare nulla. E come sviluppatore di applicazioni web più che adeguarci non possiamo fare nulla. Diciamo che le funzionalità di base più importanti sono implementate da tutti, ma se andate a cercare la funzionalità specifica che ne so cosa c'è qui qualcosa di molto particolare non è detto che su tutti i browser sia implementata, sia implementata nella stessa maniera e così via. Quindi questa purtroppo è una sfortuna che deriva dal mondo web in generale. Nessuno ci mette un bollino e impone una certificazione per dire questo è certificato JavaScript che so, S6, c'è tutto e così via. Ci conviveremo ma vedrete che non è un problema eccessivo. JavaScript è compatibile all'indietro questo è importante se qualcosa a un certo punto nella storia di JavaScript è valido come sintassi è accettabile quindi è JavaScript valido nelle release future del linguaggio questo non verrà cambiato cioè non diventerà codice JavaScript non più valido perché hanno cambiato qualcosa. i membri del comitato che vi dicevo prima che sviluppano JavaScript riassumono questa cosa dicendo we don't break the web se voi avete sviluppato qualcosa in JavaScript poi arriva il nuovo browser con l'interpret che interpreta la nuova versione di JavaScript eccetera se non fosse così quello che avete sviluppato rischierebbe di rompersi perché potrebbe essere codice che non funziona più sulla nuova versione invece è backward compatible ovviamente non è forward compatible perché perché questo limiterebbe troppo l'evoluzione quindi è chiaro che se noi usiamo le funzionalità di S8 su qualcosa che è garantito S6 non è detto che tutto funzioni anzi tipicamente qualcosa non funzionerà perché non sarà interpretabile se sarà una sintassi non prevista e così via darà un errore eccetera però però si può supportare facilmente perché ci sono due meccanismi uno è il cosiddetto transpiling che converte la nuova sintassi JavaScript in qualcosa interpretabile con la vecchia sintassi JavaScript cioè prende le nuove funzionalità scrive del codice per realizzare le nuove funzionalità usando il vecchio linguaggio quindi che so per dire l'operatore spread dei tre puntini adesso vedremo poi che itera su un array e basterebbe trasformarlo in un for se c'è qualcuno che lo fa per noi noi possiamo usarlo poi farlo trasformare e così usiamo la nuova funzionalità il nostro codice S8 però funziona anche sull'S6 previa transpilazione diciamo così che spesso in certi frame come per esempio quando useremo React eccetera addirittura trasparente per noi lo fa da solo non ce ne accorgiamo neanche una sorta di compilazione se vogliamo così dire ma anche se il linguaggio di per sé non è compilato l'approccio alternativo è fare il cosiddetto polyfill quando si può per esempio c'è una nuova funzione di libreria che prima non c'era ebbene nella versione vecchia di javascript importo una libreria che abbia questa funzione così quando la chiamo esiste non mi dice non esiste la funzione ok questa è polyfill e si fa molto questo è molto molto utilizzato soprattutto quando non c'è la possibilità di fare questa transpirazione cioè non ho un framework come React eccetera sto scrivendo nel codice per conto mio mi piacerebbe usare una funzione non c'è allora importo una libreria e ho risolto il problema una libreria che mi fa il cosiddetto polyfill ecco c'è una cosa importante da sapere che a un certo punto prima delle ssa è stato introdotto il cosiddetto strict mode e questo questo è una cosa ecco che se vogliamo va un po' contro il backward compatible di javascript ma è stato introdotto pensandoci molto bene ed è attivabile solo se l'utente lo vuole quindi solo se chi scrive il codice lo vuole per disabilitare dei comportamenti molto vecchi e molto pericolosi di javascript di cui daremo qualche cenno ogni tanto javascript è molto pasticciato come linguaggio quindi che so vi consente di usare una variabile senza definirla e poi e poi vi consente che so di di fare tante altre cose diciamo che possono creare moltissima confusione nel codice quindi questa variabile definita esiste ma non esiste sopra ma in realtà se ci mettono un'altra cosa esisteva ancora prima di essere definita tutti questi comportamenti strani e diciamo se io uso lo strict mode vedrete è molto semplice scriviamo strict mode in cima use strict anzi disabilitiamo tutti questi comportamenti che possono essere fonte di bug inesauribili e molto difficili da scovare vi ho detto prima javascript è nato male potremmo dire poi è voluto un po' meglio però e quindi certe cose ce le portiamo dietro se vogliamo disabilitarle per fortuna a un certo punto hanno pensato a questo strict che noi useremo sempre e in realtà sarà abilità di default e noi nelle nostre prove lo abiliteremo così per diciamo stare più tranquilli dunque dove possiamo eseguire javascript questo l'abbiamo già detto su node gira su qualsiasi piattaforma quindi linux unix mac os windows c'è anche a qualcuno piace usare il linux subsystem di windows il vsl vsl2 sarebbe meglio perché funziona meglio e si può far girare anche lì dentro se avete windows e non volete installarvi la macchina virtuale linux o si linux direi oppure nel browser ma questo l'abbiamo già detto oppure ci sono degli strumenti tra cui questo diciamo tutor che useremo stamattina che vi consiglio soprattutto all'inizio per capire un po' come funziona il linguaggio soprattutto quando ci sono dei costrutti un po' più complicati chiaro che per due variabili non c'è tanto da vedere però se cominciate ad avere un array che è dentro un oggetto eccetera ha di bello che vi fa una visualizzazione di quello che sta accadendo nella memoria di javascript e quindi ecco quello che vedete qui no? vi fa la visualizzazione grafica è chiaramente un tool didattico quindi non è che ci facciamo girare del codice dentro ci proviamo del codice per capire poi dobbiamo ragionare per conto nostro dopo lo usiamo quando proviamo a imparare vi ho già fatto vedere prima che ogni browser ha integrato una console javascript a seconda dei browser si trova in posti diversi del menu ma tipicamente c'è nei tool di sviluppo è chiaramente una roba che accedete solo voi e nessun utente normale che usa un browser vada ad accedere però diciamo è disponibile in qualsiasi browser standard non sono browser particolari voi l'avete installato io l'ho installato ce l'avete non sapete di averlo ma ce l'avete poco come sui cellulari avete il debug mode anche se non lo attivate però se lo attivate andate andate a a poterlo utilizzare ma l'utente normale non lo usa noi se ne abbiamo bisogno andremo a usarlo e lì dentro gira proprio l'interprete javascript abbiamo un prompt se qualcuno di voi ha usato python è come il prompt di python è un interprete possiamo dare dei comandi delle istruzioni e vengono subito eseguite e interagiscono anche con l'ambiente quindi col browser che se creiamo un oggetto nella pagina viene creato viene visualizzato e così via quindi giusto per provare si può provare ok parliamo di javascript se non avete dubbio o domande mi raccomando interrompete pure quando desiderate se avete dei dubbi che volentieri io li ripeto per la registrazione e così restano anche per i vostri colleghi che ascoltano la registrazione o per voi che risentite ok quindi parliamo di javascript abbiamo fatto tutta l'introduzione se non avete dubbi cominciamo a dire che un file è un programma javascript questa è la prima cosa da mettere sempre bene in mente un file un programma è diverso da tutto il resto voi siete abituati magari venite dal C venite da altri linguaggi di scripting eccetera ci sono un tot di file che si combinano e creano un programma qui un file uguale un programma perché ogni file è caricato indipendentemente e qui cominciate a vedere com'è mal fatto javascript se posso così dire differenti file e differenti programmi possono comunicare tramite uno stato globale questo ci comincia già a far venire i capelli dritti perché siamo abituati a sentire no perché in realtà lo stato globale le variabili globali non le vogliamo vedere perché 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 non perché isolare il codice quando le variabili globali comincia a diventare complicato tizio chiama A caio la chiama A e poi avete due A stessa variabile stesso nome che fa due cose diverse però questo è il meccanismo di javascript ok ovviamente con l'evoluzione si sono introdotti dei meccanismi un po' più intelligenti per cercare di evitare questo problema e parleremo ad un certo punto di moduli anzi in realtà se non abbiamo cambiato sarà una lettura perché è una cosa relativamente semplice da capire che ci consente di far parlare programmi javascript diversi anzi a un certo punto quando avremo react addirittura non ci accorgeremo neanche più che sono programmi diversi perché react tramite i moduli anche sul lato server con node e express diciamo ci sembreranno quasi un unico programma in realtà sono programmi diversi che vengono fatti interagire tramite questo meccanismo dei moduli ok numero due file il file è parsificato interamente e poi solo dopo eseguito dalla cima a fondo javascript non è compilato non è c ok se volete un po' come python se qualcuno di voi conosce python se voi scrivete un programmino python scriviamo un programmino javascript facciamo un errore di sintassi all'ultima riga e poi lo mandiamo in esecuzione un errore di sintassi può essere che sono la graffa aperta non chiusa non so qualsiasi cosa così lo mandiamo in esecuzione e questo non parte non mi fa neanche la prima riga perché perché in realtà prima cosa si fa il parsing cioè si legge tutto il file se c'è un errore ai sintassi si blocca tutto ok se non c'è un errore ai sintassi quindi il programma è formalmente corretto allora si inizia dalla prima riga e l'interprete esegue le istruzioni ok questo è il funzionamento dell'interprete javascript poi sotto ci possono essere mille ottimizzazioni ci possono essere compilazioni interne per velocizzare mille cose ma noi non le vediamo e sono noi dobbiamo attenerci a questa questo funzionamento questa logica mentale ok quindi attenzione voi fate un errore di sintassi da qualche parte non funziona niente perché non parte perché in realtà all'ultima riga c'era l'errore sintassi è la prima riga su cui vi focalizzate come mai non si esegue questo e perché perché in realtà non parte nulla non è ancora iniziato ok c'è una libreria standard come in più o meno tutti i linguaggi non è eccessivamente ricca ma diciamo che è ragionevole e a seconda dell'ambiente di esecuzione ci saranno delle librerie quindi delle funzionalità delle primitive addizionali delle API addizionali se siamo dentro node ci sono certe funzionalità se siamo dentro il browser ce ne sono delle altre per esempio nel browser ci sarà l'oggetto pagina l'oggetto finestra in realtà in node non c'è una finestra da visualizzare quindi non c'è l'oggetto finestra però ci mettono a disposizione l'oggetto timer come c'è dentro il browser perché perché se abbiamo bisogno di schedulare qualcosa per dopo essere richiamate eccetera quello c'è quindi in ogni ambiente c'è il suo ambiente di esecuzione quindi le API specifiche di quell'ambiente non vi preoccupate che mano a mano quelli importanti le andiamo a vedere ok javascript viene scritto in unicode mi raccomando da non abusare nel senso che potete scriverci anche le faccine e tutti questi caratteri speciali è unico del set di caratteri più esteso che c'è in circolazione però cerchiamo di non abusarne semplicemente perché poi se abbiamo fatto qualche pasticcio diventa difficile debagare banalmente vi faccio l'esempio che credo ci sia riportato dopo quanto è lunga questa stringa questa è una stringa ci sono due apici quindi c'è una stringa e c'è la faccina quanto è lunga un carattere una faccina sarà un carattere e invece no magari sono due tre eccetera perché quando cominciamo con l'unico ci sono n.000 eccezioni n.000 cose che ci danno fastidio quindi se noi abbiamo fatto un programma dicendo calco la lunghezza della stringa perché voglio sapere se ci hai messo una faccina due faccine tre faccine abbiamo contato i caratteri e non funziona più ok quindi da non abusare da usare diciamo che se mettiamola così se volete fare la variabile con la lettera accentata velocità uguale e potete metterla a differenza di altri linguaggi che magari protestano o bisogna abilitare dei modi particolari e così via però insomma diciamo essendo il linguaggio per il web viene più naturale diciamo che i cinesi scrivono le variabili in cinese va bene però sanno come scrivono in cinese e così via quindi ognuno ha la possibilità di usare il suo linguaggio senza abusare e soprattutto facendo attenzione che quando si programma poi l'unico ha dalle sue peculiarità come vi dicevo prima punti e virgola questa è una questione particolare penso che tutti conosciate il C spero la magistrale informatica direi un occhio al C l'avete visto sapete che tutti tutte le istruzioni vengono terminate a punti e virgole in javascript si può mettere ma è opzionale tranne in alcuni casi purtroppo questa è una cosa di nuovo di quelle non particolarmente felici noi direi che per buona abitudine possiamo metterle ma nessuno verrà castigato all'esame se non lo mette l'importante è che nei posti dove è obbligatorio metterlo venga messo perché se non mettete il punto e virgole se a capo c'è qualcosa che si può attaccare la riga prima viene attaccato da javascript indipendentemente dagli spazi quindi bisognerà farci un po' attenzione diciamo che la maniera più pulita è un punto e virgole in più non fa male a nessuno e che i sensitive è una sintassi molto simile al C ci sono i commenti tipo C ci sono gli identificativi tipo le variabili classiche che iniziano con una lettera non possono iniziare con un numero come in C con il dollar con l'underscore le costanti va bene alcune keyword riservate if for tutte queste cose qua è tipo C quindi niente di particolare ecco il punto e virgole ci facciamo attenzione magari ne parliamo poi quando incrociamo qualche cosa che ci che ci obbliga al punto e virgole perché tendenzialmente se voi andate a capo javascript mette un punto e virgole se però ciò che c'è a capo si può attaccare alla riga prima finisce che è eseguito un'istruzione diversa e quando è che si può attaccare di solito quando la riga dopo inizia per parentesi tondo parentesi graffa perché la parentesi tonda è l'apertura di una chiamata funzione e la parentesi quadra è l'accesso a un array ok quindi occhio la cosa migliore è mettere i punti virgola sempre e ogni tanto c'è c'è qualcosa anche un po' scomodo tipo voi scrivete return a capo aperta tonda eccetera e non va perché dopo return vi ha messo il punto e virgola quella volta lì che non volate il punto e virgola ve la omette ok quindi javascript è fatto così ma ci prenderete la mano e insomma se siamo in laboratorio vi aiutiamo e se no piano piano vedrete modificando tornando indietro eccetera cercando su inter scoprirete diciamo queste queste non molti casi in cui bisogna fare un po' attenzione ecco c'è chi è fissato per le linee guide di stile noi non siamo particolarmente fissati fate come volete è chiaro che come in tutti gli esercizi di programmazione più si mantiene ordine e meno c'è il rischio di avere bug no perché perché chiaramente una cosa ordinata è più pulita e ci confonde meno le idee no ma venite dal C quindi non c'è tanto discorso da fare ecco useremo sempre lo strict mode ok perché perché ci risparmia un sacco di bug come si fa a usarlo è molto semplice prima riga comunque una delle la prima riga di codice del nostro programma deve essere questa stringa virgolette use strict chiuso virgolette e punto e virgola perché dicevamo vogliamo il punto e virgola è solo una stringa non crea problemi con le vecchie versioni di javascript le nuove versioni di javascript tutte le s5 vedete addirittura quella prima delle s6 capiscono che vogliamo eseguire i strict mode disabilitano una serie di funzionalità molto pericolose che ci danno potenziali problemi ok quindi noi lo metteremo sempre è semplice scriviamo questa stringa come prima cosa e poi proseguiamo ok non c'è neanche da scrivere a uguale variabile uguale c'è solo la stringa ok quindi adesso siamo sostanzialmente pronti a fare qualche prova e quindi andare a vedere un po' di linguaggio e seguendo ovviamente i strict mode non so se siete curiosi poi sulle slide trovate tutti i dettagli però come dire per dire ve lo farei un esempio non si possono definire due proprietà due parametri di una funzione con lo stesso nome che ovviamente non ha senso però il vecchio javascript ce lo fa fare e poi cosa fai una volta che accedi a che so nome indirizzo e anziché telefono riscritto nome e cosa c'è dentro nome c'è il primo parametro e il terzo parametro è solo un pasticcio ci crea solo problemi e non ci capiamo più niente quindi disabilitarlo non ci costa nulla credo che ci fosse qualcuno che mi aveva chiamato vero? no ho sentito prof ma sarà in cuffia ok allora cominciamo con le cose di base ovviamente non facciamo diciamo da zero perché se no non finiamo più però è importante sapere come funzionano le variabili sembra scontato cos'è una variabile una casella dove mettiamo un valore cosa vuoi che sia no l'importante da capire in javascript lo evidenzieremo sempre da qualche parte sulle slide e sono le cose che scriviamo qui quindi i valori hanno un tipo le variabili non hanno un tipo javascript non è un linguaggio che ha i tipi delle variabili ha i tipi ma non ce li ha sulle variabili cioè non è come il c non scrivo int pippo char pluto e così via ok qui scrivo pippo pluto li definisco ci sarà una keyword let per esempio per definirli però non hanno un tipo quindi il tipo ce l'ha il valore che è messo dentro la variabile quindi se ci metto un numero quella variabile dentro ha un valore che ha tipo numero e se ci ho messo una stringa una stringa e se ci ho messo un boolean ha un boolean ok e poi ce ne sono altri due c'è il tipo che la variabile ha prima che ci metta qualcosa dentro che non è un valore a caso nella memoria come il c ma è undefined quindi c'è un tipo apposta quindi se io faccio let pippo cioè definisco una variabile non ci metto un valore dentro c'è undefined ok quindi non è che c'è il primo valore a caso nella memoria e poi c'è questo tipo null che può venire comodo in certe occasioni per esempio come valore il ritorno delle funzioni è un po' come il null di java se ci siete abituati ma insomma per dire che non c'è un valore per distinguere dall'undefined che nessuno ci ha messo un valore null e io ce l'ho messo il valore voglio dire che non c'è ok se no dovremmo dovremmo farci un altro meccanismo un po' come quando si ritorna qualcosa in c dovete dare un tipo e se tutti i valori che so date int quando fate return in c date int e se tutti gli int sono buoni come faccio a dire che c'era qualcosa che non andava e non voglio ritornare di qualcosa ho bisogno di ritornare qualcosa in più passo per valore faccio una strata faccio un sacco di pasticce qui c'è il null metto null è una cosa separata da tutto il resto e posso usarlo ok questi sono i tipi primitivi quindi string numeri boolean undefined null undefined lo teniamo soprattutto da conto perché ci lo incontreremo spesso e poi ci sono i tipi composti ci sono gli oggetti ok e gli oggetti in javascript sono di questi tre tipi quindi array gli array le quadre diciamo così le funzioni le funzioni sono un oggetto questa è la prima volta che lo vediamo e ci tornerà mille volte in javascript perché parleremo diffusamente di funzioni e poi ci sono gli oggetti che definisco io gli oggetti che definisco aprendo una graffa sostanzialmente quindi oggetti creati dal programmatore ok quindi questo specchietto da tenere bene a mente e mi raccomando il valore al tipo non è la variabile ma questo diciamo vi verrà abbastanza naturale perché non mettiamo un tipo quando definiamo la variabile quindi faremo a uguale b uguale eccetera non c'è un tipo davanti ok valori veri e valori falsi questa è di nuovo un po' peculiare di javascript sapete in C ci ispiriamo al C perché le stesse sintesi poi è molto simile al C quindi come riferimento possiamo tenere il C però in C tutto ciò che non è zero è vero e tutto ciò che è zero è falso ok qui invece purtroppo c'è una serie di valori purtroppo non lo so una volta che ci fate l'abitudine forse no tutti questi valori valutano a falso va bene lo zero come il C zero numerico il meno zero già questo ci fa andare un po' ci da un po' fastidio no se ci pensate meno zero vabbè l'hanno fatto un po' così il notenumber e va bene il notenumber c'è anche in C non valuta zero però vabbè l'undefined che abbiamo visto prima il null e la stringa vuota la stringa ha un tipo primitivo quindi non è come il C che è un riferimento eccetera la stringa ha un tipo in javascript la stringa vuota valuta null ok mi raccomando occhio alla differenza del resto l'array vuoto non valuta null l'oggetto vuoto non valuta null valuta e scusa null falso volevo dire falso ho detto null scusate quindi tutto quello che ho detto prima valuta a falso ok quindi se lo mettiamo in un if ci da falso entriamo nel ramo falso dell'if ok tutto il resto entra nel ramo vero dell'if o in una valutazione booleana entra nella parte vera ok per distinguere questo fatto che non c'è proprio solo il valore booleano falso vero ma ci sono tutti questi valori in inglese li hanno chiamati falsi e trussi ok quindi diciamo non so neanche come tradurlo veritiero e falsario non lo so ok quindi ovviamente i numeri diversi da zero valutano avvero le stringhe che non sono vuote valutano avvero anche se c'è scritto falso dentro qui abbiamo fatto proprio questo esempio perché poi c'è la conversione automatica di tipi che è un'altra questione però tutte le stringhe non vuote valutano avvero l'array vuoto ovviamente pieno valuta avvero e l'oggetto questo è l'oggetto che si farà con le graffe vuoto valuta avvero ok quindi qui vedete un esempio questo è fatto sulla console del browser quando vedete il triangolino potete se volete cominciare a paccioccare questo lo possiamo fare tranquillamente intanto facciamo una prova così vediamo la console dove l'avevo messa apri il tool se poi vado a prendermi la console quindi boolean vedete che suggerisce anche facciamolo grosso boolean di stringa vuota falso adesso non chiedetemi boolean maiuscolo in realtà è una funzione predefinita interna a javascript eccetera non la usiamo giusto per farci vedere senza dover scrivere un if è una cosa complicata qual è il valore quindi potete fare tutte quelle prove che vediamo prima tra l'altro c'è anche il preview della risposta vabbè ok quindi fate fate queste prove così tanto per così abbiamo provato il browser ok ovviamente abbiamo gli operatori per fare i confronti di uguaglianza ce ne sono due come in molti linguaggi uno che fa la conversione di tipo l'altro che non la fa allora il più semplice è quello col triplo uguale l'uguale singola assegna il doppio uguale e il triplo uguale fanno il check la verifica il triplo uguale non fa conversione di tipo quindi se il valore che c'è a sinistra è uguale identico al valore che c'è a destra nel valore e nel tipo la valutazione è vero se no la valutazione è falso ok quindi se io scrivo tre e la stringa tre quindi tre e apice tre apice col triplo uguale sono due cose diverse col doppio uguale sono due cose uguali perché l'una viene convertita nell'altra ok questo è comune a molti linguaggi di scripting è per semplificare un po' la scrittura del codice appunto come in questi casi ho tirato fuori il numero dalla tastiera dalla tastiera mi viene fuori una stringa o da un campo di un form mi viene fuori una stringa lo voglio confrontare col numero se no dovrei mettermi lì e fare una conversione di tipo una funzione che faccia la conversione di tipo come in c in c c'è questa separazione per cui leggete con la scanf e leggete con non so più cosa si legge viene fuori la stringa dovete convertirla in numero no o ve lo fa la scanf o cos'è a tuo i cos'è sono quelle funzioni non me le ricordo anche più tra un po' e quindi qui c'è la conversione automatica se lo desiderate ovviamente da usare con precauzione vabbè c'è anche il big int questo però lo lascerei ah no ecco questo però è importante i numeri non c'è un tipo speciale per i numeri con la virgola quindi prima abbiamo detto numeri e numeri vuol dire numeri interi numeri con la virgola positivi negativi eccetera ok quindi si convertono da soli a seconda del bisogno ok c'è anche il big int però insomma se avete bisogno di interi grandi ma lascerei un attimo perdere questo andiamo poi a vedere no mi è sparito la conversione scusate ho perso ah e dopo va bene dopo torniamo sulle conversioni le conversioni automatiche di tipo ne parliamo dopo ok pensavo fosse qui attaccato ma in effetti è un po' dopo va bene quindi occhio che a seconda del tipo che hanno le variabili e non le variabili i valori javascript si comporta in maniera un po' peculiare c'era una domanda di qualcuno no ok va bene allora diamo un'occhiata ai valori speciali undefined l'abbiamo detto possiamo verificare se qualcosa è undefined senza andare in errore type off nome della variabile uguale 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 undefined quindi il tipo del valore contenuto dentro la variabile è triplo uguale stringa undefined null va bene l'abbiamo detto prima ci può tornare utile non tipicamente ci viene fuori dalle operazioni di conversione dei numeri che so converto una stringa che non era un numero lo voglio convertire in numero in maniera controllata non facendogli fare la conversione implicita oppure faccio 0 diviso 0 tutte queste operazioni che danno degli errori radice quadrata di un numero negativo eccetera ok le variabili sono dei puri riferimenti quindi si riferiscono a un valore e possono cambiare il tipo del valore a cui si riferiscono nel tempo cioè la stessa variabile io prima posso mettere dentro un numero poi una stringa poi un oggetto e così via non c'è problema in javascript non si fa problemi ok perché perché abbiamo detto le variabili non hanno un tipo sono delle caselle sono dei riferimenti ad un valore questo valore può essere un tipo primitivo numero stringa boolean undefined null oppure può essere un tipo oggetto e abbiamo diversi oggetti gli array le funzioni e gli oggetti user defined ok quindi sappiamo tutto quello che c'è da sapere sui valori che può avere una variabile adesso dobbiamo creare variabili come si creano in tre maniere terzo sconsigliato infatti non è in grassetto quindi le creiamo con let o const o con var però è sconsigliato diciamo che è la vecchia maniera ok quindi let diciamo è la maniera che potete usare per un valore che dovrà cambiare nel tempo quindi let a uguale 5 poi a un certo punto facciamo a uguale 8 va bene ci sta se non abbiamo bisogno di cambiare niente possiamo fare const in javascript si usa abbastanza spesso qual è il vantaggio di usare const è che se poi assegniamo qualcosa come fanno qui b6 b9 l'esecuzione ci dà un errore per cui se noi pensavamo che una cosa dovesse essere const e poi la andiamo a modificare questa è una spia del fatto che forse c'è un errore di programmazione nel nostro codice se la pensavamo const vuol dire che non la devo assegnare se l'ho assegnata o ho sbagliato la definizione ah si devo fare la let oppure c'è qualcosa che non va nella logica del programma quindi un modo di la chiamiamo programmazione difensiva che è sempre bene usare se possibile per cercare di intercettare i bug sul nascere mentre programmiamo ok e var varia la vecchia maniera di definire le variabili che però sconsigliamo perché fa una serie di operazioni che non ci piacciono adesso le diciamo quindi ci sono quattro modi di definire le variabili l'ultimo l'abbiamo lasciato stare perché non si può neanche usare in strict mode ed è il più pericoloso allora il primo è let dicevamo si può riassegnare non si può ridichiarare quindi se io faccio let a uguale 2 poi faccio let a uguale 5 ho anche let a uguale 2 di nuovo mi dice no la variabile l'hai già definita come in c non è che potete dopo un po' che avete fatto int a uguale a 1 rifare int a non si può ok quindi metodo preferito adesso arriviamo ai blocchi const è uguale a sopra solo che non si può riassegnare non si può riassegnare il valore se poi invece abbiamo un riferimento come avremo con gli array oggetti eccetera questo non implica nulla il const non implica nulla però diciamo per semplicità adesso diciamo non si può riassegnare il var si può riassegnare si può ridichiarare ecco già questo non ci piace io faccio var a uguale 2 poi sotto faccio var a uguale 5 e l'interprete già aveva scritto e sta zitto e non dice niente però magari volevo scrivere b perché mi è scappato a perché avevo il dito sulla a ma volevo scrivere b è un errore di programmazione ha due variabili cioè due variabili che nella mia testa sono separate sono andate a finire nella stessa è chiaro che prima o poi esce un errore farebbe piacere che l'interprete javascript me lo dicesse no lo sa benissimo quali variabili sono visibili in questo momento e quindi se la ridefinisco potrebbe dirmelo quindi non vogliamo usarle mi raccomando le vedo ogni tanto le vedo all'esame mi chiedo ma perché usa var e non c'è mai una risposta valida ok gli unici punti dove vedremo l'uso di var sono quando abbiamo poi gli import i moduli eccetera ma ma quello è proprio l'unico posto e si fa così perché si fa così e punto e basta ok e spesso non li vedremo neanche da tutte le altre parti non vogliamo vedere var nel nostro codice var non esiste si può tranquillamente fare a meno non lo vogliamo vedere perché perché poi ha anche una serie di comportamenti difficili da capire no perché si legge il codice io ho scritto var a uguale 2 e l'ho scritto a metà del mio file peccato che per var avviene il cosiddetto hoisting cioè io l'ho scritto a metà del mio codice ma la variabile esiste dal principio del mio codice capite che pasticcio viene fuori in c questa cosa non esiste la variabile inizia esiste dal momento in cui l'avete dichiarata qui esiste prima cioè io la posso assegnare prima di dichiararla senza errore quindi potete capire che pasticcio viene fuori e poi c'è l'ultima riga dove addirittura appunto vietata in strict mode dove non devo manco dichiarare io scrivo a uguale 2 così dal nulla esiste esiste dall'inizio anche se l'ho scritto alla fine è globale insomma non la vogliamo vedere ok adesso facciamo un esempio e lo proviamo e lo proviamo con quel python tutor così cominciamo a prendere confidenza con quello strumento quindi use strict prima cosa sempre in tutti i nostri programmi use strict let a uguale a 1 const b uguale a 2 let c uguale a true ecco senza le virgolette true false sono i valori booleani di javascript ma insomma questo è facile a capire let a uguale a 5 questo non funziona l'interprete si blocca e mi dice anzi non si blocca l'interprete si blocca il parser no in realtà si blocca l'interprete vabbè perché dipende dallo scope vabbè non fa niente e comunque a un certo punto si blocca e perché mi dice a è già definito no cosa ridefinisci a è un errore proviamolo così facciamo pratica non lo proviamo nel browser qui nella console anche se potremmo anche provarlo qui ma perché è un po' scomodo no e poi il python tutor ci serve ci viene comodo la prossima volta quindi metto python tutor quel link che avevamo sulle slide si chiama python tutor ma esegue anche javascript e noi ovviamente lo usiamo per javascript quindi ci clicchiamo subito su javascript e andiamo a scrivere un po' di codice use strict ok let a uguale 1 scriviamo il codice della slide const b uguale 5 lo facciamo un po' più grande ma così non troppo e poi let a uguale 2 ok quindi visualizziamo l'esecuzione abbiamo bisogno un attimo di pazienza ci saranno le pubblicità abbiate pazienza l'anno scorso non ce n'erano meno va bene insomma comunque cosa ci dice syntax error viene eseguito il codice syntax error identifier a has already been declared ok togliamo a cioè togliamo let cambiamo il valore di a eseguiamo eh oh vabbè questo vogliono un po' di feedback va bene possiamo eseguire il codice quindi c'è è stato parsificato tutto quindi prima ho detto una cosa sbagliata quindi quindi è nella fase di parsing che viene fuori questo error ok è facile confondere poi c'è lo scope vabbè e qui ecco il bello del python tutor è che possiamo eseguirlo passo passo e vedere l'effetto questa è la memoria di javascript quindi dell'interprete javascript quindi noi eseguiamo la prima istruzione vabbè use strict dice all'interprete di usare lo strict non c'è niente da vedere letta uguale 1 esiste a e ha del valore 1 ok poi cost b 5 quindi esiste b a 5 e poi a 2 quindi in a che esiste già ci cambio il valore ci metto 2 ok niente di particolare insomma è molto semplice come codice il frame cos'è è lo scope è il diciamo il come lo potrete come lo potreste si chiama frame anche in C cioè è lo scope corrente in questo momento non abbiamo aperto graffe siamo nello scope globale quindi sono variabili globali visibili a tutto il programma che vi ricordo è solo il file e qui non abbiamo un file ma diciamo che il file il file è ciò che abbiamo scritto qui ok è bello che ovviamente essendo un tool didattico potete andare avanti e indietro eccetera va bene quindi e ovviamente se assegnavamo qualcosa al a const chiaramente non andava mb6 giusto così per provare poi appunto se avete il vostro computer e siete curiosi e volete paccioccare potete fare queste prove mentre mi diverto io mi divertite anche voi ecco assignment to constant variable questo non si può fare e l'esecuzione si interrompe ok si interrompe i programmi interpretati non si piantano ma si interrompono quindi se ci capita in un file caricato nel browser si interromperà l'esecuzione a quel punto lì e tutto il resto non verrà eseguito c'è una domanda in javascript non è possibile perché l'interprete si prende carico di fermare queste situazioni prima che si verifichino ok quindi si interrompe e interrompe non so più cosa fare smetto mentre il programma ci va avanti finché non lo blocca il sistema operativo i programmi interpretati dipendono dall'interprete perché se l'interprete non esegue la prossima istruzione è tutto finito ok grazie per la precisazione ok ok proviamo a creare uno scope che non è la maniera in cui si crea uno scope di solito in javascript però diciamo che possiamo contentarci è tipo c apriamo una graffa si crea uno scope cos'è uno scope è un nuovo ambiente in cui possiamo mettere delle altre variabili isolate dall'altro scope quindi è un blocco diciamo così facciamo una prova quindi editiamo cost le mettiamo dentro uno scope quindi dove la graffa qui ok allora togliamo il b uguale a 6 che non c'è niente da vedere perché tanto è una cost ok quindi let a uguale a 1 dentro il blocco e poi facciamo a uguale a 2 fuori vediamo cosa succede allora si è aperto la graffa vabbè questa è una cosa un po' particolare vabbè diciamo che a uguale a 1 b uguale a 2 eh no 5 e poi lo scope termina sparisce tutto a non c'è a non c'è nel global scope quello che vedevamo prima poi adesso arriviamo a questa questione perché c'è la undefined a uguale a 2 a uguale a 2 non me l'ha fatto non è definita questa era la versione vietata non eh se non mettiamo u strict sta roba funziona ed è un problema perché ci confonde le idee in una maniera pazzesca quindi con lo u strict questo non funziona meno male ecco quello che scrivevamo qui let e const hanno lo scope di blocco che vuol dire che esistono solamente nello scope in cui sono definiti e in quelli più interni quindi se noi apriamo una graffa più interna non c'è l'esempio ma facciamolo noi così facciamo un po' di live coding come piace tanto e quindi che so e noi qui ci scriviamo a uguale a 5 e chiudiamo la graffa questa cosa funziona no? quello è uno scope più interno ops avevo fatto l'asta ho sbagliato ok 1 5 a qui nello scope più interno è visibile la a più esterna ma questo ci siete abituati no? è tipo c e solo non è visibile fuori perché viene distrutta al termine dello scope no? qui non c'è più e quindi chiaramente c'è un errore ok? ecco let e const esistono dall'inizio dello scope nel quale sono definite un po' come la var questo non è che aiuta tanto però solo se lo definisco esplicitamente è il motivo per cui mi venivano fuori i due undefined prima ok? però diciamo a questo non possiamo farci nulla noi usiamo let usiamo const e di tutto il resto ci dimentichiamo ok? fate poi qualche prova per conto vostro facciamo adesso questa prova che con var giusto per farvela vedere una volta e farvi vedere che pasticci possono verificarsi nel momento in cui la usiamo così capiamo il motivo per cui non vogliamo usarla quindi facciamo proviamo a fare il copio e incolla delle slide vediamo se funziona quindi edit control non è proprio il massimo poteva tenermi un po' di indentazione vabbè console log è l'equivalente della print quindi qui vediamo quattro istruzioni in più cioè if è un console log una chiamata funziona ma giusto per non eseguire proprio due righe di codice banalissimo vi aiuto io mentre lo guardiamo allora c'è va bene l'oggetto funziona example ma questo possiamo lasciarlo perdere facciamolo un po' più piccolo no così ah no c'è il print dobbiamo farlo ancora un bricciolo perché ci compare lì la stampa allora next la funzione la funzione non viene eseguita come in c e codice è stato parsificato quando la chiamiamo verrà eseguita allora la chiamate in fondo facciamo example 2 passiamo a x 2 quindi prendiamo una funzione nello scope della funzione example aperto delle grafiche quindi le funzioni hanno il loro scope in javascript quindi questo è uno scope un po' più decente il motivo per cui anche abbiamo fatto una funzione let a uguale a 1 e vabbè questo l'abbiamo visto prima e farà a uguale a 1 no e va bene x c'è già il parametro possiamo fare console.log di a e lo stampa no questa è la stampa mi viene fuori 1 console.log di b b cos'è? b non c'è quindi chiaramente questo ci dà errore reference error b is not defined ok e quindi il nostro programma è finito come dicevo prima quindi o correggiamo o il nostro programma è finito allora correggiamo questo non lo facciamo quindi riproviamo console.log a il b no e il c non è che rogna il c c'è e lì è undefined e se io faccio console.log bc anche se non ho ancora definito c ma l'ho definita dopo come var questo funziona non mi fa come prima col b questo funziona e mi scrive undefined se io faccio diciamo il print di undefined viene fuori undefined ok quello che non posso fare è dereferenziare l'undefined cioè non posso scrivere appunto qualcosa se l'oggetto è undefined non è che posso andare a accedere dei campi ok questo dà errore però a stamparlo posso stamparlo è un tipo è come gli altri no poteva uscire null poteva uscire un numero poteva uscire una stringa e adesso faccio var c boh var c if x maggiore di 1 vabbè qui abbiamo messo 2 quindi entrerò dentro faccio let b uguale a più 1 a c'è è visibile no perché è è è visibile e l'abbiamo definito prima quindi b mi verrà fuori 2 e nel blocco 1 no quindi in un blocco dentro example va bene var c uguale a per 2 eh cosa succede con questo var c è lo stesso c di prima ok cioè questi sono tutti i pasticci che succedono se uno usa var per questo che non vogliamo vederlo no qualcuno magari potrebbe pensare viene creato un secondo c siamo dentro un'altra graffa e no ok non c'è manco detto che è stata ridefinita che pasticcio va bene console.log console.log a 1 e va bene console.log b adesso mi è uscito di scope perché c'è è chiusa la graffa quindi ci dà di nuovo errore e non posso farvi il console.log dc che verrebbe fuori 2 perché perché il c era era già definito lo edito ancora una volta tolgo il console.log bdb che tanto ci dà fastidio e vi tolgo anche il var c ok dai gli errori li facciamo apposta inutile non te li amandiamo allora riproviamo a eseguire 1 facciamo stampa di 1 console.log dc guardate che disgrazia cioè il c undefined non c'è nessun errore l'ho messo qui dentro non l'ho messo lì no qui l'avevamo scritto nelle slide per far capire cosa vuol dire l'hoisting hoisting vuol dire portarlo all'inizio del blocco come se fosse stato all'inizio del blocco ma non ce l'ho più scritto adesso l'ho tolto ma c'è lo stesso e poi il resto funziona come prima no b a più 1 c a per 2 va bene ci metteremo dentro cos'è 2 console.log a 1 c 2 e fine quindi var crea solo pasticci e problemi potete giocarci una volta come abbiamo fatto adesso per capire che è bene non toccare qual è l'unico momento in cui andiamo a usare var come vi dicevo prima quando facciamo gli import in modulo eccetera perché così ci crea una variabile globale dall'inizio del file è finita lì ma facciamo attenzione serve solo importare tutta la roba del modulo e chiuso ok ma non lo faremo neanche più perché vedrete che sostanzialmente avremo qualche meccanismo un po' più intelligente ok se non ci sono dubbi andiamo un po' avanti volevamo arrivare alla fine di questo blocco che è un po' introduttivo però vi consente di iniziare a giocare un po' con il javascript anche se solo con questo tool didattico e andiamo a parlare di espressioni espressioni ovviamente in ogni linguaggio dobbiamo scrivere delle espressioni assegnamenti l'abbiamo appena fatto confronti quando scriviamo un if ci serve il confronto se no cosa testiamo operazioni aritmetiche più o meno per diviso eccetera eccetera poi ci sono tutta una serie di altre operazioni più o meno strampalate sui bit eccetera eccetera diciamo in javascript ce n'è una certa serie e ci focalizziamo solo su quelle più interessanti come per esempio le stringhe e e basta le prime tre l'assegnamento l'abbiamo visto più più uguale meno meno uguale eccetera insomma questa roba qua è tipica c non c'è niente ogni tanto c'è qualcosa un po' particolare in ogni linguaggio le sue per cui adesso non mi ricordo neanche più cosa vuol dire il triplo maggiore uguale il triplo maggiore unsigned right shift assignment una roba che non vedrete mai nel vostro codice ok perché perché lavora sui bit non fate come quelli che programmano in c che per fare diviso due hanno bisogno di fare lo shift a destra per favore non ne abbiamo bisogno ci sono già abbastanza pasticci in javascript da fare senza arrivare a questo però come dire ci sono tante cose noi non è che possiamo vederle tutte ma al vostro livello siete in grado di orientarvi maggiore minore maggiore uguale minore uguale eccetera eccetera c'è da fare attenzione solo al triplo uguale e al doppio uguale col diverso no? cosa hanno di diverso questi due operatori rispetto agli altri che non fanno la conversione di tipo come dicevamo prima quindi se volete effettivamente verificare se proprio uguale identico cioè tre numero uguale a tre numero dovete usare il triplo uguale e se volete fare il diverso verificando se anche solo il tipo è diverso dovete usare punto schiamativo uguale uguale non basta il punto schiamativo uguale che è il diverso classico ok non si possono confrontare gli oggetti e neanche gli array va da sé perché è come in C quando confrontate qualcosa cosa confrontate? confrontate i riferimenti non confrontate gli oggetti dovreste fare il giro su tutto il contenuto degli oggetti degli array eccetera quindi però sulle sulle stringhe funziona perché le stringhe sono un tipo primitivo questo è diverso dal C non sono un array sono un tipo primitivo quindi sulle stringhe si può fare ecco i confronti tranne quelli con il doppio cioè il triplo uguale oppure punto schiamativo doppio uguale fanno la conversione di tipo cioè ci sono una serie di regole che sono queste quelle che cercavo prima scritte nello standard su come devono avvenire le conversioni di tipo per fare il confronto ok quando abbiamo gli operatori di confronto io eviterei di imparare questa roba cerchiamo di evitarle a meno che non siate più che sicuri che state facendo quello che volete fare quindi fondamentalmente se state confrontando un numero con una stringa e siete sicuri che vi fa bene la conversione di tipo che viene che viene fatta ok quindi cerchiamo di evitare perché poi magari uno pensa che venga fatta la conversione in un senso invece viene fatta quella opposta non funziona più quindi evitiamo vi faccio notare solo sì perché non ci sono dopo alcune peculiarità di javascript che per esempio voglio convertire una stringa in numero più stringa se io scrivo più la variabile della stringa il risultato è che la stringa mi viene convertita in numero poi posso farne cosa voglio lo metto in un confronto lo assegno eccetera però è chiaro che questa roba qua che è molto peculiare di javascript è del motivo per cui voglio farvela vedere è da usare con molta molta cautela perché se dentro la variabile s non c'è una stringa che rappresenta un numero cosa succede? succede che l'interprete si ferma e quindi è un errore e il resto del programma non viene eseguito quindi è meglio usare qualcosa di un po' più intelligente per fare queste operazioni quindi occhio trovate di questi idiomi da tutte le parti in giro per la rete del motivo per cui ve li faccio vedere anche per farvi entrare nella mentalità javascript ma cerchiamo di non usarli nel nostro codice perché ci sbaglieremo ci capiterà di sbagliarci ok come da numero a stringa ci aggiungiamo la stringa vuota questo forse è un po' più safe però cerchiamo di fare attenzione ci sono altri modi più espliciti come vedete si può fare to string si può fare string c'è una funzione apposta quindi non è che sia impossibile che ha fatto javascript non ha pensato una maniera di fare le conversioni come chi ha fatto il c avete una stringa che rappresenta un numero dovete convertirlo in numero c'è a2i e lo convertite in un numero intero chiamate la funzione sapete cosa succede quando c'è un errore e così via anche qui c'è parsint parseflot string e così via ci sono queste funzioni le usiamo se abbiamo bisogno di gestire l'errore come spero vogliate fare sempre tranne in queste quattro prove che facciamo così all'inizio andiamo a vedere sul manuale cosa succede in caso di errore una lancia l'eccezione l'altra ritorna un valore diverso non lo so cosa facciano non me lo ricordo onestamente andiamo a cercarcelo e gestiamo l'errore curiosità perché c'è parsint e parsflot cioè abbiamo detto che c'è il numero no? potrebbe esserci parsflot e basta ci basterebbe no? boh perché se vogliamo un int vogliamo verificare che sono intero c'è anche il parsint ok? per nostra comodità ci aspettiamo che una variabile contenga un intero mi dica c'è una domanda per quanto riguarda la stringa numeri di numeri decimali si si ne riportare il punto o la virgola? la stringa numeri la conversione da stringa numeri di numeri decimali usare il punto o la virgola è una bella domanda bisogna andare a vedere sulle specifiche di solito il punto non credo che ci sia una maniera semplice per fare cambiare a virgola bisogna cercare su internet non lo so questa è proprio la classica cosa da andare a cercare in giro su google stack overflow eccetera voglio convertire una stringa che ha virgola anziché numero in numero cosa faccio? ci sarà chi scrive magari javascript non può farlo punto è finito va bene e ci sarà invece chi dice va bene ma allora usa questa libreria ma se voglio usare una libreria lo so e magari c'è chi dice si può impostare qualcosa ma non credo perché essendo che questa è una cosa del linguaggio è un po' come se lei volesse fare l'ato del c no scusate come si chiama l'altra al contrario la print la print è farci uscire la virgola anziché il numero quando stampa un numero per cento F è definita così poi può darsi che pacioccando con la libreria C con il locale settato eccetera la print prenda la virgola anziché il punto però sono tutte cose non tanto standardizzate quindi io non ci farei conto e quindi se ha la virgola mi sa che le conviene fare diverso è una stringa la divide sulla virgola si converte la parte intera si converte la parte decimale e se vuole il float se lo mette insieme oppure cerca su internet ci sarà qualcuno più furbo di me che saprà dirle non so magari c'è questa libreria magari c'è questo idioma strano di javascript perché ce n'è sempre uno che in una riga fa qualcosa c'è il replace per la stringa ok lui suggerisce di fare replace della virgola col punto e poi di fare la conversione questa è una possibilità n modi però ce lo dobbiamo programmare diciamo così e quando dobbiamo programmarci qualcosa dobbiamo ovviamente sempre inventarci qualcosa noi ognuno avrà la sua opinione ok grazie così spezziamo un po' anche il ritmo di questa lezione che sennò diventa anche un po' pesante perché essendo un po' introduttiva è una cosa un po' noiosa diciamo così anche se curiosa perché vedete che javascript ha le sue peculiarità ecco tre operatori logici che ci servono fondamentalmente negli if ma non solo del motivo per cui li vediamo perché sono uguali al c c'è il doppio è commerciale c'è la doppia barra verticale quindi l'end l'or è il punto esclamativo che è il not servono nelle condizioni logiche soprattutto negli if però però in javascript ce n'è sempre una nuova cioè se io ho un'espressione end end espressione un'altra espressione quindi espressione 1 end end espressione 2 il tutto ritorna il valore di espressione 1 se l'espressione 1 si può convertire a false altrimenti ritorna l'espressione 2 ok quindi se lo usiamo con i boolean si comporta come ci aspettiamo come negli if no? come un end normale ma se lo usiamo con roba diversa come le stringhe possiamo farci ritornare usando l'e commerciale oppure il doppio a barra verticale l'espressione 1 l'espressione 2 a seconda di che valore aveva la stringa quindi se dovrebbe esserci no l'esempio c'è molto più avanti va bene niente allora prendiamo la seconda che è anche un esempio che che poi si faremo però dopo va bene la seconda espressione 1 ora ora espressione 2 se io ci metto una stringa nella prima parte e ci metto una stringa nella seconda cosa succede? lo posso fare questo è javascript quindi si può fare quasi tutto è un tipo primitivo non c'è nessun problema non c'è da convertire niente se la prima stringa è vuota l'espressione vale la seconda stringa se invece la prima stringa non è vuota l'espressione vale la prima stringa cioè ho trovato un sistema di avere un valore di default su una stringa proviamo a scriverlo e tanto dopo mi sa che non forse non c'è no non c'è va bene lo facciamo così facciamo appunto entriamo nella mentalità javascript allora editiamo togliamo use strict cioè lasciamo use strict scusate e facciamo let name uguale stringa vuota name uguale name no non è il punto esclamativo ma la doppia barra there let sentence hello e qui non vi ho ancora detto che le stringhe si concatenano col più forse l'ha accennato ma non l'abbiamo visto proprio sulle slide hello name console così vabbè non vediamo lo stesso ma facciamo il console log dai che sentence ok abbiamo scritto due righe di javascript niente di particolare sempre use strict name è la stringa vuota a name assegnavo questa espressione quella con l'or cosa c'è dentro name c'è la stringa vuota valuta falsi quindi l'espressione prende il valore della seconda parte ok la espressione 2 there name there e allora ho sentence vabbè hello there e me lo stampo va bene se io però dentro dentro name ci metto Enrico eh eh no volevo salvare ma qui non si salva scusate va bene riproviamo che cosa ci va a finire in name quindi name Enrico name uguale name che non valuta a falsi perché non è una stringa vuota e quindi l'espressione prende il valore della prima parte Enrico name resta Enrico quindi ho fatto di fatto name uguale name sentence hello Enrico console log va bene l'ho stampato cioè questo lo possiamo dire evidenziamo possiamo dire in name mettici name a meno che sia vuoto se no questo è il valore di default che vorrei che ci fosse in name se non c'è niente dentro name ok quindi abbiamo una maniera molto idiomatica di javascript di mettere un valore di default in una variabile assicurarci che in una variabile ci sia quello che ci deve essere la stringa che ci deve essere oppure il nostro valore di default se non c'era niente ok nulla ci vieta di farci le nostre solite cose if name no if not name name uguale there si può scrivere tranquillamente questo è il c no facciamolo va visto if not name name uguale there eh questo è tipo c no ma non è abbastanza tipo javascript purtroppo javascript è questo che dobbiamo imparare nel corso non il linguaggio perché a fare un if siete capaci tutti e nel if non ci entriamo e quindi abbiamo finito no quindi ellenrico se invece ci mettiamo niente perché ci mettiamo niente perché questo name adesso l'ho scritto lì ma potrebbe arrivarci da una chiamata della funzione potrebbe arrivarci da chissà dove non sappiamo cosa ci sia dentro e ci evitiamo di scrivere l'if ovviamente adesso ci entra quindi ci mettiamo name there e mi facciamo hello there esattamente come prima quindi si può tranquillamente scrivere come l'if come siamo abituati in c niente di speciale però non è idiomatico javascript cioè troverete un sacco in giro di di codice che funziona in questa maniera in javascript è pieno quindi tanto vale impararlo se no vi sentite sicuri non usatelo non c'è bisogno noi non è che stiamo all'esame a vedere se avete usato tutti gli idiomi strani possibili di javascript anzi se non ne avete usati troppi magari anche meglio perché riusciamo a capire un po' di più il codice però sappiate che esistono perché poi andate su stackover andate a destra a sinistra a cercare e trovate questa roba qua e bisogna capire cosa vuol dire ok bene quindi come vedete ci focalizziamo sugli aspetti particolari javascript si c'è una domanda si adesso lo vediamo ma diciamo si questo è un aspetto abbastanza che abbiamo dato un po' per scontato si però è vero allora c'è pieno appunto di idiomi particolari che quando sono utili si trovano molto ve li facciamo vedere c'è il classico idioma molto usato anche qui in javascript del c punto interrogativo un valore due punti un altro valore al posto dell'if no a cioè name punto interrogativo name due punti der potevamo scrivere prima eh forse il contrario eh punto scrivativo name eccetera per il resto niente di particolare eh quindi sapete scrivere più o meno in c sapete scrivere più o meno in javascript bisogna farci la mano ovviamente ci sono una serie di librerie predefinite la matematica è una di queste classica in tutti i linguaggi è un oggetto globale adesso non abbiamo ancora parlato di oggetti ma vedete come si usano le cose io so se avete bisogno della benedetta radice quadrata da qualche parte ci sarà un logaritmo eccetera è chiaro che non ve lo implementate no e dovete chiamarlo in questa maniera guardiamo le strutture di controllo il vostro collega chi giustamente chiedeva ma l'if come funziona eccetera beh queste ce le guardiamo non c'è niente da vedere eh if else c'è l'else non c'è il den occhio solo che la condizione è valutata con quel truth quindi non è solo un valore diverso da zero eh e quello che dicevamo prima è falso se zero meno zero note number stringa vuota è undefined ok quindi se ci mettiamo un undefined valuta falso e quindi entra nel ramo falso eh nell'else qui ho messo le graffe nel senso che si usano come in c e come diceva il vostro collega per la singola istruzione possiamo farne a meno esattamente come in c questo forse non c'è sulle slide però insomma provate cercate non noi evidenziamo un po' le differenze no si possono anche fare le catene degli if funzionano bene gli switch occhio che in c questo può essere solo una variabile intera o char qui può essere anche una stringa ci sono i break da fare attenzione da ricordarsi di mettere i for for punto e virgola punto e virgola esattamente come in c do while while esattamente come in c si può usare il break continuo quindi niente di diverso adesso arriviamo al diverso il for ha un po' di modalità d'uso diverse in javascript si può fare il for in e il for off si può fare tranquillamente il for classico for let i uguale a 0 i minore di 100 i più più ok quello tipo c si può fare però noi ovviamente ci focalizziamo sull'aspetto più peculiare di javascript quindi esistono altri due tipi di for il for in e il for off il for in che forse è più intuitivo come sintassi solo come sintassi perché dici in poi c'è non so abcd 1 2 3 4 non è quello che ci aspettiamo come sempre in javascript non usiamolo non usiamolo facciamo prima ok non usiamo il for in perché il for in passa tutte le proprietà di un oggetto e quindi funziona solo sugli oggetti se gli diamo un array non funziona bene pianta solo pasticci ok non è vietatissimo da usare se stessimo scrivendo una libreria qualcosa sappiamo cosa stiamo facendo potete usarlo però diciamo il for per iterare come noi scriveremmo i uguale a 0 i più più eccetera e il for off esiste si può fare senza il contatore ma il for off no quindi se noi facciamo for let a off 4 7 questo è un array sono due valori in un array console log a a prima prende il primo valore dell'array poi prende il secondo valore dell'array sulle stringhe funziona uguale prende il primo carattere e il secondo carattere anche se in realtà poi vedremo che in javascript non esistono i carattere quindi prende il primo carattere o tra solo una stringa prende il secondo carattere tra solo una stringa ma il risultato alla fine è uguale quindi possiamo scorrere un qualche cosa che si dice iterabile cioè si può girarci sopra ok quindi tipicamente un array è una stringa poi ci sono altri oggetti ma diciamo cominciamo con questi per fissare le idee e ogni volta ogni giro il form mi ritorna un elemento di quel iterabile quindi dell'array il primo il secondo il terzo il quarto della stringa il primo carattere il secondo carattere il terzo carattere eccetera ok quindi possiamo no non lo proviamo se no non finiamo più però diciamo avete capito il concetto insomma lo proviamo magari dopo mentre proviamo ci sono ancora altri modi di scorrere un array che però vedremo quando facciamo la programmazione funzionale quindi per ora ce li scordiamo ci sono le eccezioni in javascript si gestiscono col try catch c'è anche il finally per gestire cioè per eseguire comunque l'ultimo l'ultimo pezzo come per tutte le eccezioni gli oggetti diciamo eccezione sono fondamentalmente questi oppure qualcosa che definiremo noi ma diciamo le eccezioni le dobbiamo conoscere perché ogni tanto le funzioni di libreria ci danno un'eccezione ok quindi che so pars int e magari ci da l'eccezione se non c'è un valore convertibile in int e quindi dobbiamo saper scrivere un try catch per il resto noi quando andremo avanti con con la programmazione javascript con react e tutto fondamentalmente gestiremo tutto quanto tramite promise che possono essere gestite con le eccezioni però quindi dobbiamo sapere cosa sono le eccezioni però hanno tutto un loro modo di fare e quindi praticamente non le useremo quasi mai ok quindi queste strutture di controllo abbiamo finito quindi if for eccetera abbiamo finito ricordate for off ok array un altro tipo importante poi credo che per oggi si array e string si poi il resto lo facciamo giovedì quindi gli array sono abbastanza ricchi in javascript così come gli oggetti ecco ovviamente sono fatti a modalità javascript cioè cosa vuol dire negli array possono starci cose che hanno anche un tipo diverso quindi gli array sono delle scatolette come le variabili e il tipo ce l'ha il valore non ce l'ha la scatoletta non è come in c in c facciamo un array di interi e poi dentro ci sono degli interi qui invece c'è un array potremmo chiamarla lista forse nella nostra mentalità questa cosa è più che un array è una lista è una lista ordinata in cui possiamo fare accesso tramite un numero che è la casella dell'array 0, 1, 2 partono da 0 anche qui hanno una proprietà punto length che ci dice quanti elementi ci sono nell'array perché non bisogna predefinirli come in c ma in molti linguaggi di scripting potete fare gli array che crescono senza particolari problemi e quindi bisogna poter trovare la lunghezza e ci sono una serie di metodi per manipolarli metodi a disposizione in javascript quindi diciamo così di libreria o del array stesso o metodi a disposizione che modificano l'array oppure ne creano uno nuovo creare un array è molto semplice apriamo e chiudiamo una quadra e la cosa più semplice quella che vi consiglio è la cosa più intuitiva se no ci sono tutte le funzioni in libreria array off punto off array cos'è array è un oggetto predefinito come mat come ci sarà object come ci sarà function come ci sarà tanti altri e c'è il metodo array quindi voi non dovete definire array array c'è c'è perché nell'ambiente di esecuzione javascript quindi dovete solo chiamarlo e scrivere punto off aperta ton la roba che volete metterci dentro notate bene una funzione che prende un numero di parametri variabile quindi io se ci metto un elemento faccio un array da un elemento e ne metto cinque cinque elementi ok di qualsiasi tipo e qui sono tutti numeri qui sono string boolean tutto quello che mi pare però diciamo che io vi consiglio la sintasa a sinistra perché è un pochino più intuitiva no aprire la quadra è la stessa identica cosa viene fuori lo stesso tipo di array ok non è che javascript fa differenza sia stato creato in una maniera o nell'altra ecco il python tutor poi dopo lo proviamo con un esempio magari un po' più complicato così si vede qualcosa interessante vi fa vedere cosa c'è dentro così vi aiuta a visualizzare un po' come funziona l'array soprattutto all'inizio poi ce l'avrete in mente come in c e quindi non avete più bisogno gli elementi sono indicizzati a partire da zero quindi questo è tipo c come tanti altri linguaggi length si aggiusta da sola quindi se io aggiungo un elemento length si aumenta se lo tolgo diminuisce eccetera ci sono delle funzioni diciamo utili da sapere per modificare gli array per esempio come faccio ad aggiungere qualcosa a un array c'è punto push quindi io ho fatto un array v aperta chiusa quadra punto push e ci metto dentro un nuovo elemento e questo viene messo in coda alla fine and c'è line shift che lo mette all'inizio quindi mette prima quello che è nuovo e poi tutto il resto ok quindi bisogna prenderci un po' la mano e se uno non sa cerca onestamente anche io non è che me le ricordo tutti ok il push è il più semplice no push metti una cosa in fondo la cosa più comune che si fa con un array aggiungi qualcosa no poi c'è il pop toglie dalla coda c'è line shift che mette c'è il shift che toglie dalla testa e niente quindi questo modifica l'array chiaramente lo chiamo sull'array quindi faccio array punto quel metodo e e ho risolto il mio problema come faccio a copiare un array ah questo è già più interessante cosa succede con gli array allora questo ce lo ce lo copiamo ce lo proviamo così proviamo il python tutor perché non viene fuori copia e proviamo il python tutor con questa cosa qua punto interrogativo è di troppo allora vediamo il codice anche voi a casa se state studiando provando non sapete cosa succede provatelo col python tutor non c'è da vergognarsi v array vuoto qui non sa come scrivercelo ce lo scrive empty array va bene v di 0 uguale a v di 1 uguale a 8 tra l'altro vedete che cresce basta assegnare alle caselle e cresce let alias uguale a v ecco questa è la cosa interessante creerà un nuovo array o cosa fa questa istruzione io assegno un array a una variabile no abbiamo detto che la variabile non ha il tipo quindi prende ciò che gli assegno vorrei più come dire entusiasti avranno già capito che visto che in v c'è una freccia in alias ci finirà un'altra freccia e bisogna solo capire dove una freccia ha lo stesso array e quindi se io faccio alias di 1 uguale a 5 andrò a modificare lo stesso array il v ok ma la array in realtà non ha un nome ok la array è un pezzo di memoria è come in c è un pezzo di memoria ha dei riferimenti in c ha i puntatori e qui e qui non vogliamo chiamarli puntatori perché non è nello stile javascript li chiamiamo riferimenti che alla fine vuol dire la stessa cosa cioè sono queste frecce cioè se noi copiamo una freccia cioè copiamo un riferimento abbiamo duplicato il puntatore abbiamo duplicato il riferimento ma l'oggetto l'array rimane lo stesso e quindi infatti l'hanno chiamato alias perché perché ci va a finire nello stesso array se io modifico l'1 se io poi facessi console.log di v di 1 mi viene fuori 5 non mi viene fuori 8 perché l'array è 1 quindi per visualizzare se l'array è duplicato è rimasto usate python tutor che vi risolve tutti i vostri problemi graficamente come faccio allora a duplicare l'array c'è sempre la solita soluzione del c let v2 array vuoto for i uguale a 0 i minore di length eccetera ce li copio questo è l'approccio c però non è l'approccio javascript ok in javascript spesso c'è una funzione una funzionalità più breve qui c'è array from non è l'array off di prima c'è una leggera differenza off prende i parametri ogni parametro è una casella dell'array from prende l'array intero e lo duplica ok quindi facciamo la copia e vediamola e poi quindi alias no devo fare edit array from v ok lo proviamo quindi app è scappato quello è l'array di prima adesso non c'è più un alias perché in alias ci va a finire riferimento ma un nuovo array che mi è stato creato apposto dall'array from di fatto ha fatto il nuovo array ha fatto il for copiando tutto per noi ok tutto qui e chiaramente alias di 1 uguale 5 adesso andrà a modificare solo più il suo no perché gli array adesso sono due non è più uno però se avete in testa la modalità di funzionamento di un qualsiasi linguaggio che ha gli array quindi il c che ha i puntatori o se volete prendete pure anche che so java in cui i puntatori ci sono ma sono impliciti come in javascript cioè ci sono dei riferimenti se io copio il riferimento ho copiato il riferimento non ho copiato l'oggetto non ho copiato l'array devo solo tenere a mente questo se devo duplicare l'oggetto l'array devo farlo esplicitamente o a mano o con qualche funzione che me lo fa ok occhio che fa una cosiddetta shallow copy cosa vuol dire vuol dire che copia gli elementi uno per uno se ci fosse un riferimento ad un array forse c'è nella no non c'è nella successiva ma lo facciamo la prossima volta con gli oggetti mi copio il riferimento quindi se se dentro l'array c'è un riferimento ad un oggetto voglio la copia di quell'oggetto devo farmelo esplicitamente se no finisco per avere le due frecce che puntano allo stesso oggetto perché mi ha fatto una copia dei valori e se il valore riferimento è una copia del riferimento uguale ok altri metodi per ritirare sugli array li vedremo quando faremo l'applicazione funzionale come girare sugli array col for off che abbiamo visto prima quindi forse non c'è un esempio lo facciamo ma visto che sì non abbiamo tantissimo tempo ma uno lo facciamo volentieri facciamo quello che faremmo tutti no for let v no v l'abbiamo usato per l'array e non in mi viene da scrivere in ma è sbagliato off alias console log e ok facciamo un giro questi sono gli elementi dell'array quindi for non va avanti cosa ho combinato ah sì ecco quindi c'è e prende il valore di a e me lo stampo poi al giro successivo e prende il secondo valore 8 quindi mi fa uno step in più mi fa vedere che lo prende e e lo stampa ok e ho fatto il mio for sull'array poi finisce e vado a fare quello che facevo prima ma non mi interessa eh potevo scrivere la stessa roba let i uguale 0 i minore di eh cos'è alias punto length i più più console log alias di i oh cosa è sbagliato la graffa i ok questo non è sbagliato questo è lo stile c ok adesso va andrà ehm no ho sbagliato last ok quindi c'è niente di male eh i0 i1 e e faccio faccio come se fossi in c però javascript se trovate un esempio in giro quasi mai ci troverete il for i uguale 0 i minore eccetera eccetera e ci trovate il for off ok quindi tanto vale impararlo tanto vale fare pratica ok bene eh ci sono una serie di metodi utilizzabili sugli array javascript è relativamente ricco di queste cose no si possono concatenare si possono unire si possono dividere attaccare rigirare ordinare eccetera eccetera quindi ve li guardate al bisogno li cercate no sono le operazioni tipiche degli array inutile che stiamo a perdere tempo su queste cose qua quando ne abbiamo bisogno le facciamo vedere ogni tanto però non stiamo a perderci tempo funzionano anche sulle stringhe che è l'ultimo argomento che ci rimane eh importante di oggi eh prima eh prima di arrivare alle stringhe ancora due o tre cose sugli array visto che abbiamo visto gli array occhio che gli array possono essere assegnati nella forma quadre uguale quadre cosa fa cosa fanno queste operazioni assegnano il primo valore al primo al secondo al secondo questo si chiama il cosiddetto destructuring assignment ed è molto utile quando si ritornano i valori da una funzione ritorno un array e così mi copio automaticamente il primo valore nel primo il secondo nel secondo il terzo nel terzo se avevo bisogno di ritornare altri valori no in c è un pasticcio dovete ritornare un abstract che viene copiata si può fare però è abbastanza macchinoso qui boh ritorno un array lo assegno addirittura appunto posso direttamente eh metterlo nelle variabili che mi servono no come x y il valore di ritorno di questa funzione il primo valore sarà messo in x il secondo in y le creò addirittura al volo non esistevano x e y prima di questa istruzione ok quindi questo è utile seconda cosa utile lo spread i tre puntini qui qui mi sa che è andato via ma questo non è s6 però lo possiamo usarlo stesso not ce lo supporta e in react ce lo supporterà perché fa il transpiling possiamo usarlo sia a sinistra sia a destra di fatto è un foro implicito ci scorre i valori e ce li mette uno per uno nell'array oppure li compatta guardiamo l'esempio non abbiamo il tempo di provarlo però lo guardiamo let x spread y uguale 1 2 3 4 addirittura se c'è qualcosa viene separato quindi il primo valore finisce la prima variabile i secondo terzo quarto finiscono dentro y come un vettore quindi questa è una scrittura molto potente è un idioma tra l'altro molto utilizzato anche per questo che lo vediamo cioè qui se lo dobbiamo scrivere noi non finiamo più creiamo l'array facciamo il for giriamo sull'array non a partire da zero devo sapere quante variabili ho già messo e ci scrivo 5 6 righe di codici qui ne ho scritta una e ho risolto il mio problema ok e stessa cosa funziona a rovescio io ho un array e voglio inserirlo in un altro no 3 puntini nome dell'array e qui viene espanso e mi crea i vari elementi ok quindi non mi copia se io ci metto part senza i 3 puntini mi mette il riferimento all'altro array quindi finisco con 2 array invece con i 3 puntini viene espanso e ho un unico array provatelo nel python tutor per la prossima volta questa è la conseguenza che per copiare un array aperta qua da 3 puntini nome dell'array ho copiato l'array senza l'array from l'array off e così via ok perché perché mi fa lo spread diciamo l'apertura di questo array dentro un nuovo array ok ultime parole sulle stringhe ma abbiamo quasi finito le stringhe cosa sono allora sono un tipo primitivo abbiamo detto quindi non è come c però funzionano più o meno come gli array la diversità è che non le posso assegnare singolarmente sui singoli elementi perché sono immutabili ogni volta che devo modificare una stringa in javascript devo creare una nuova stringa c'è niente da fare devo creare una nuova stringa ok il length come sugli array mi dà la lunghezza occhio a questi pasticci dell'unico che vi dicevo funzionano con gli apici singoli con gli apici doppi non c'è alcuna differenza tranne quando vediamo il json il json vuole gli apici doppi ma nel suo formato non c'entra con le stringhe di javascript quindi se ci abituiamo agli apici doppi forse è meglio così non facciamo i pasticci con il json ma è indifferente c'è un terzo metodo che vediamo tra un istante il fatto che le stringhe siano immutabili vuol dire che ogni volta che noi tocchiamo una stringa con un metodo con un idioma al più qualsiasi cosa l'accesso ci viene creata una nuova stringa ok e quindi se facciamo concat di una stringa con un'altra non verrà fuori che è la prima stringa modificata c'è sempre una nuova stringa ok c'è scritto dov'è che c'è scritto no non c'è scritto ve lo dico io non esiste il carattere non esiste il singolo carattere in C come in C in javascript il singolo carattere è una stringa di lunghezza 1 punto e basta se io scrivo s3 prende il terzo carattere e mi ritorno una stringa con un solo carattere dentro punto sono tutte string ci sono una serie di metodi no tipo vabbè alcuni sono simili agli array no splices eccetera substring sono più tipici delle string va bene questo trim non ce l'ha gli array perché taglia via gli spazi gli array non ha gli spazi a qualsiasi cosa dentro e così via questi ve li guardate niente di speciale ultima cosa si occhio ai pasticci dell'unicode quindi meno usate meglio state template litera c'è una terza maniera di definire la stringa poi chiudiamo si possono usare gli apici rovesciati i back tick ok quindi apici singoli apici doppi e i back tick e da qualche parte no non li trovate sulla tastiera italiana ma si possono fare con una combinazione di tasti e sono un carattere standard cos'hanno di diverso hanno di diverso queste string che dentro possono contenere espressioni javascript racchiuse tra dollaro graffa e graffa tipicamente una variabile posso metterci roba complicata ma non lo faccio perché sennò impasticcio tutto il codice di solito ci metto una variabile no ma è un po' come creare la stringa per la print per la print del c ci mettete percento s qui invece non si mette in percento s si fa un'unica stringa con i back tick dollaro aperta graffa e ci scrivi dentro la variabile che vuoi ok quindi molto utili e veloci per la formattazione delle stringhe perché evito di fare hello chiusa più name più aperta virgolette punto più e fare tutti più per creare la stringa ok possono andare su più linee a differenza delle altre direi che per oggi basta siamo andati un po' di corsa prossima volta facciamo più esempi cerchiamo di andare meno di corsa giovedì prossimo quindi dopo domani 8 e 30 aula 7i sarà più piccola ma dovremmo starci ok se avete dubbi o domande vi rispondo se no scappate e ci vediamo dopo domani grazie 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 a tutti